Marco Bonacossa, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. E benvenuto davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere il romanzo intitolato Per il tuo bene. Il romanzo, lo ricordo, è pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti. Marco Bonacossa, nato a Pavia, si è laureato prima in filosofia e poi in storia moderna e contemporanea. Che cosa l'ha fatto? Scegliere prima filosofia e poi storia moderna e contemporanea. Marco Bonacossa. Un duplice motivo. Il primo perché a Pavia stai soltanto nella specialistica e quindi si trattava di andare a Milano per contenere i costi essenzialmente e poi anche perché sono entrambi i miei amori intellettuali e quindi ho voluto approfondire entrambi. Amori intellettuali che poi sono sfociati anche in libri, in partecipazioni a incontri, conferenze e quindi anche la necessità di raccontare ciò che si è studiato e il percorso di studio diventa anche condivisione pubblica. Corretto, corretto, assolutamente. Soprattutto la storia del Novecento italiano ci offre moltissimi spunti ai noi o per fortuna, insomma dipende dall'argomento di vista. Dal punto di vista. Esattamente. E quindi ho approfondito più tematiche e una di queste poi è sfociata sia nel mio primo libro che sulla Sikeraiz, che era una polizia speciale fascista durante la resistenza, la guerra civile, qui in Oltrepopavese e poi questo romanzo appunto per il tuo bene. Il romanzo per il tuo bene. Ed attualmente Marco Bonacossa si occupa di ricerca e selezione del personale. Esattamente. In che modo la ricerca e la selezione del personale che è un'attività molto complessa, molto complessa, ma c'ho ragione proprio oggi, no? Nonostante tutte le facilitazioni dal punto di vista internetico, di curriculum e finché si vuole, no? In che modo ciò che lei ha studiato, la filosofia, la storia moderna, ma credo che più che tutto la filosofia entri a buona ragione nella scelta di una persona in un'azienda? Molto spesso quando si pensa ok, hai studiato filosofia ma poi cosa vai a fare? In realtà la filosofia, come gran parte di tutte le scienze teoriche, non offrono un immediato sbocco pratico, ma mai, io penso, quasi nessuna disciplina quanto la filosofia possa aprire veramente le menti delle persone. E questo mi ha permesso poi nel mio attuale lavoro di sapere che vi sono più strade nell'interpretazione degli atteggiamenti, dei comportamenti e delle parole delle persone. E la filosofia mi ha permesso questo, assolutamente. E lo sapeva molto bene un signore che si chiamava Adriano Olivetti, questa cosa della filosofia e di conoscenze che apparentemente non c'entrano nulla con la vita dell'azienda, apparentemente, e invece c'entrano altro che. E adesso andiamo a vedere che cosa c'entrano altre cose. Marco Bonacossa, ci racconta la copertina del suo romanzo? Sì, per il tuo bene, è come copertina un uomo solitario che osserva un mondo lontano da sé. Potremmo dire una biglia e forse capisce tutto. Anche, esattamente. Dalla biglia forse si capisce ancora di più. Essenzialmente la biglia è l'oggetto quasi iniziale della nostra storia e poi finale. È come se fosse una sorta di cerchio che racchiude in sé non solo la storia che ho raccontato nel romanzo, ma anche proprio una serie di vicissitudini emotive che nel romanzo spero che i lettori possano cogliere. è una storia italiana, è una storia vera, quindi è un romanzo storico il mio, essenzialmente, che cerca di penetrare quello che Nietzsche definiva l'abisso nell'animo umano. Spero di esserci riuscito in qualche modo. E lei ci porta proprio a limitare, sul limitare di questo abisso. Noi guardiamo l'abisso e forse vediamo noi stessi più ancora dei protagonisti di questo romanzo per il tuo bene. Ed è un romanzo, detto storico, giustamente perché per cui è una storia nemmeno poi così tanto lontana dai giorni che stiamo vivendo, perché poi quando si parla di anni storici tutto è relativo. Andiamo a conoscere per esempio un luogo, Villa Azzurra. Villa Azzurra ci porta a Torino, ci porta nella esperienza dei manicomi, degli ospedali psichiatrici, altrimenti detti. E ci porta a conoscere un professore, una psichiatra, Giorgio Coda. Ricordiamo che Giorgio Coda venne ferito da un gruppo terroristico, un nucleo di prima linea, se non ricordo male, negli anni 70, fine anni 70. E qui potremmo dire comincia questa storia tra il vero e la finzione di questo romanzo. Villa Azzurra è uno di quei luoghi simbolo dell'orrore. Usando un iperbole possiamo riprendere Auschwitz che già soltanto evocarne il nome porta al pensiero crudeltà atroci che hanno vissuto le persone che lì ne sono state vittime. Villa Azzurra, per chi ne conosce la storia, è allo stesso identico modo. è un luogo dell'orrore. Coda, il professor Giorgio Coda, è stato diciamo il maggior responsabile di fatto. Di per sé il suo nome agli italiani, almeno quelli di oggi, non dice nulla. Però ha detto e dice molto a chi lavora in certe strutture e lavora con certe persone, quindi con chi ha purtroppo delle malattie mentali di karate. Lui era il simbolo di quello che a Narendt avrebbe definito la banalità del male. È un individuo semplice, anonimo, grigio, con una brillante carriera che semplicemente pensava di sfruttare qualche d'uno ritenuto tra virgolette inferiore, secondo ovviamente la sua mentalità e la mentalità di molti all'epoca, anche di una certa classe scientifica, per i propri scopi di ricerca e con la ricerca scientifica e con degli strumenti che oggi definiremo di tortura, ottenere quei risultati che potevano premiarlo all'interno della comunità accademica scientifica. Questo è il personaggio di Giorgio Coda, un personaggio che poi pagherà per i suoi crimini fino a un certo punto perché sarà il primo di fatto medico per aver applicato torture di questo tipo come l'elettroshock in scala quasi fordiana, quindi come se fosse una fabbrica. Tant'è vero che venne condannato a cinque anni di reclusione e alcuni amnistiati, certo. e l'imputazione maggiore era quella proprio che lui ricorreva all'utilizzo di sevizie soprattutto contro i piccoli pazienti nel manicomio dove lavorava e quando sottoponeva a pulizione elettrica i malati il tribunale ha stabilito che c'era completa consapevolezza da parte del medico. Esatto, era una volontà precisa da parte sua compiere quel tipo di torture per valutarne le reazioni accademiche per sopire quelli che potevano essere gli animi più eccitati all'interno di quello che poteva essere un manicomio quindi possiamo anche giudicare di per sé animi eccitati all'interno di un manicomio come un'ipervole di quello che abbiamo detto quindi persone che venivano completamente devastate nell'animo e fisicamente legate ai letti per i polsi e per le caviglie e con l'elettroshock l'elettricità passava nel loro corpo e faceva loro perdere ogni controllo della mente della vista dei muscoli pensate che lui fu condannato per abuso dei metodi di correzione dato che non era un reato di tortura verso i malati l'unica scappatoia legale che fu trovata da parte del giudice fu questo abuso dei metodi di correzione condannato a 5 anni amministrati 4 non fece neanche un giorno di carcere dopo essere stato condannato nel 74 lui tornò alla sua professione non più in un istituto pubblico ma da privato e poi come giustamente abbiamo detto prima nel 77 fu vittima di un attentato di prima linea che lo giustiziò alle gambe quindi non fu ucciso fu ferito fu legato al termosifone bollente proprio come faceva lui con i suoi pazienti più piccoli eh sì è una storia che dicevo che sembra lontana nel tempo ma non è non è lontana e questo romanzo storico ci porta ci porta veramente a scoprire queste pagine che necessariamente noi dobbiamo dobbiamo scoprire anzitutto anzitutto per conoscere la storia di Faustino certo aver ingoiato la biglia di cui abbiamo detto poco fa ma non vogliamo rivelare più di tanto lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori prossimi lettori le vicende eh relative a questo bambino e torno a dire un bambino e quindi non poteva fare non poteva fare più di tanto ma nemmeno nemmeno gli adulti potevano fare più di tanto di fronte di fronte a questa macchina di elettroshock dell'elettroshock no che veniva quasi portata in processione nei vari reparti a mo di avvenimento in modo che tutti quanti fossero a conoscenza che quella macchina poteva toccare a ognuno di loro e che a ognuno di loro era dato la propria scossa e quindi ogni scossa era una perdita di personalità e questo romanzo seppure nella finzione molto agganciata alla realtà la realtà storica di quella vicenda ci permette di entrare non tanto dalla porta di servizio per comprendere per comprendere questa storia ma dalla porta principale perché il romanzo ha la sua dignità importante nel raccontare la storia e la storia di questo di questa vicenda dell'istituto torinese ha necessità di essere raccontata ha necessità di essere raccontata perché non ci si deve vergognare di queste cose perché dobbiamo conoscerle ormai sono sono state sono state compiute e allora dobbiamo testimoniarle dobbiamo testimoniarle la testimonianza che noi possiamo fare oggi come oggi anche quella di compiere quel gesto che noi chiamiamo rivoluzionario abbassare gli occhi aprire gli occhi e cominciare a leggere e cominciare a leggere il romanzo per il tuo bene perché per il tuo bene Marco Bonacossa perché è la frase che diceva Giorgio Coda quando applicava l'elettroshock alle sue vittime diceva che per il tuo bene quindi oltre al danno anche fisico che procurava il loro danno psichico anche una sorta di ferita nell'animo che produceva quindi per il tuo bene prende proprio lo spunto dalle sue stesse parole eh sì anni dove stava stava covando anche dicevamo poco fa no dell'attentato che ha subito erano gli anni in cui erano anni caldi no dove la politica era vissuta in maniera molto esasperata a un certo punto del romanzo se ricordo bene si dice oggi i giovani hanno in mente di fare la rivoluzione e lui dice bene allora ve lo farò vedere io sarà un evento rivoluzionario per la medicina ecco e allora lui girava quelle manopole e e faceva la sua rivoluzione ma la rivoluzione che faceva questo medico era di appannare le vite di distruggere le vite di annientarle le vite con le scosse elettriche è vero e la cosa più terrificante fra tutte è che è il ritratto della società italiana che emerge dal romanzo e da questa storia perché tra i cosiddetti malattimentali vi erano persone che malattimentali certamente non lo erano affatto come alcolisti come omosessuali come orfani come ribelli come donne tra virgolette come si poteva dire all'epoca dei facili costumi era ritratto di un'Italia che nascondeva sotto al tappeto e in questo caso il tappeto sono i manicomi in stile Villa Azzurra persone sgradite alle famiglie e alla società in generale e nessuno domandava più di loro e Coda era il perfetto netturbino di questa spazzatura umana eh sì il perfetto netturbino ma anche un profondo conoscitore dell'animo umano per annientarlo torno a dire e e allora che cosa può fare contro per esempio un bambino come Faustino che viene ripreso per esempio dalla scuola quando è in classe lui chiede lui chiede una cosa normale chiede di andare in bagno la suora glielo impedisce e lui e lui le dice le dice qualcosa che che alla suora non ha non andava bene e le dice e la suora allora si rivolge a Faustino dicendo adesso il professore ti farà male ma quel professore l'aveva già fatto male precedentemente e continuerà ancora a fare male esatto esatto continuerà fino a quando poi non in linea con quelli che erano gli accadimenti storici dell'epoca un gruppo di donne forse la sensibilità femminile in questo ha sicuramente una marcia in più ha avuto sicuramente una marcia in più nella nostra storia che raccontiamo vedono che qualcosa non va chiudono le carte interrano la mamma di questo bambino Faustino e vedono che ci sono luoghi dell'orrore come Villa Azzurra completamente abbandonati e coperti anche da una certa volontà politica e vogliono far luce vogliono fare una loro rivoluzione questo è sì il senso positivo ed è proprio dalla loro denuncia da queste studentesse e dottoresse in psicologia di Torino che poi emergerà il fenomeno Villa Azzurra che sarà il primo poi in tutta Italia avendo anche un eco nazionale appunto e lì arriveremo alla legge Basaglia del 78 il tribunale dichiara Giorgio Coda responsabile dei reati ascritti gli di abuso dei mezzi di correzione e di falso ideologico e lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali questa la condanna mentre Faustino abbraccia abbraccia teneramente Elena e da qui in poi lasciamo i nostri ascoltatori inoltrarsi in questa triste vicenda perché è una vicenda molto triste e anche troppo lunga il romanzo intitolato per il tuo bene il romanzo pubblicato da Scatole Parlanti scritto da Marco Bonacossa ma prima di salutarci invece qual è qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro di storia ed è oggi siamo nel 2024 al centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e in questo momento sto leggendo un bellissimo saggio di un bravissimo storico che si chiama Mimmo Frantinelli che è Matteotti e Mussolini dove si ripercorre le vite dei due in parallelo prima nel partito socialista poi divisi secondo insomma il percorso storico che tutti conosciamo e che ci dà un'idea dell'Italia di allora ma in piccola parte anche di quella di oggi Mimmo Frantinelli noto storico con questo saggio Matteotti e Mussolini vite parallele dal socialismo al delitto politico pubblicato questo libro da Mondadori nella collana editoriale è sempre molto bello citare la collana delle scie perché sono dei libri veramente fondamentali grazie davvero Marco Bonacossa e buona giornata grazie a voi è stato un piacere grazie a tutti grazie a tutti